le ha rappresentato una vetrina assai importante diciamo per l'aggiornamento di trial clinici e di presentazione anche di nuovi trial clinici ora in particolare quello che il focus che vorrei fare è un po sul CLL14 il CLL14 è uno studio particolarmente innovativo perché è uno studio che riguarda pazienti anziani anfite che vengono trattati per un arco di tempo limitato quindi con una target terapia rappresentata da Veneto con l'aggiunta di obinutuzumab per 12 mesi è uno studio di fase 3 in cui il braccio di controllo è rappresentato da un gold standard di trattamento per questi pazienti vale a dire l'obinutuzumab e il clorambucin ora nel follow up a tre anni che è stato presentato nell'ambito dell'ultimo di questo HA si conferma il vantaggio si conferma la superiorità del diciamo del trattamento con obinutuzumab e Veneto con un dato che secondo me è assolutamente importante perché con una sopravvivenza libera da progressione diciamo a tre anni quindi in questo follow up a tre anni che è dell'80 per cento quindi un dato diciamo assolutamente rilevante se si tiene conto che questi pazienti hanno interrotto da due anni il trattamento ma forse diciamo il fatto assai rilevante che poi sarà oggetto anche di una recente pubblicazione nell'ambito diciamo in Lancet Oncology i dati appariranno presto in Lancet Oncology è rappresentato dal fatto che i pazienti che ottengono una condizione di malattia minima residua non detectabile con una soglia di sensibilità a 10 alla meno 4 che rappresentano il 47 per cento della popolazione totale diciamo sono pazienti che di fatto si avvantaggiano in termini di outcome di malattia quindi hanno una migliore sopravvivenza libera da progressione una sotto analisi poi ci dà anche un'altra informazione che è assolutamente importante c'è una sotto analisi dei pazienti che hanno ottenuto una risposta parziale ci va a dire che questa popolazione è estremamente eterogenea e nell'ambito dei pazienti con risposta parziale quelli che riescono ad ottenere una condizione non detectabile di malattia minima residua hanno un outcome che è assolutamente sovrapponibile ai pazienti con risposta completa e anch'essi con negatività della malattia minima residua quindi in altri termini la condizione di malattia minima residua non detectabile diciamo va ad avere un peso assai maggiore nel determinare l'outcome di malattia rispetto anche a quelli che erano considerati un po dei capisaldi nella valutazione della malattia che erano i dati di risposta clinica mi piace concludere questo brevissimo update ricordando che alle ha è stato presentato un poster che diciamo è tutto frutto dell'impegno anche dell'associazione italiana leucemie che come dire va a rappresentare attraverso una survey che è stata condotta su tutto il territorio nazionale quelli che sono i bisogni dei pazienti con leucemia linfatica cronica e soprattutto diciamo questa survey serve un po a offrire delle aree di potenziale miglioramento per quanto riguarda l'approccio ai pazienti con leucemia linfatica cronica e una delle aree di potenziale miglioramento è proprio quella rappresentata dalla informazione che i pazienti come dire vorrebbero sempre di più per quanto riguarda l'accesso a terapie innovative e accesso diciamo a come dire possibilità di meglio avere risposte che siano risposte più profonde quindi con l'obiettivo di potere discontinuare il trattamento quindi anche in questo ha grandi novità nella linfatica cronica ma io credo che il fatto forse nuovo è l'attenzione a quelli che sono i bisogni dei pazienti con la leucemia linfatica cronica che sono i bisogni dei pazienti con la leucemia linfatica cronica ma io credo che il fatto